Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi raga uno svuota la spesa che avrà all'interno delle cose che veramente, cioè, sarà la mia dichiarazione d'amore ufficiale verso il Lidl. Cioè se io dopo queste cose che ho comprato non vengo dichiarata veneratrice, suprema e unica del Lidl, io mi offendo. Ve lo dico, me ne vado, me ne vado. Vi dico anche però che alcune cose che vi farò vedere oggi non le ho comprate tutte al Lidl. Tra l'altro, ottima tattica dichiarare il proprio amore al Lidl e dire subito all'inizio video che alcune cose non le ho prese al Lidl, ma vabbè, dettagli. Comunque direi di partire subito e partiamo dalle cose surgelate, di cui alcune ho solo le scatole perché avevo il freezer pieno, ho dovuto mettere le cose sfuse, quindi vi farò vedere le scatole, perdonatemi. Allora, al Lidl c'erano un po' di avanzi di vari prodotti della settimana delle settimane precedenti, quindi ho trovato un po' di tutto, è stato molto bello. Infatti ho preso questi bocconcini di melanzane panate che facevano parte dei prodotti quelli street food, se non sbaglio. Era rimasta poca roba senza carne e pesce, però qualcosa ho trovato e questi qua mi ispiravano non poco, signori. Poi ho trovato con mia grande gioia e felicità, raga, i mini cannoli siciliani, raga, i mini cannoli siciliani. Ovviamente non saranno mai come dei veri cannoli, però, eh, raga, cioè io sono a Torino, mi devo arrangiare in qualche modo. E quindi ne ho prese due confezioni perché sono veramente super piccoli, alcuni anche super distrutti, ma non importa. Chissà come sono, dai, magari non saranno malvagissimi, io ho una grande fiducia. Poi ho preso le mie immancabili pizze surgelate, sempre del Lidl, e cambiando un attimo supermercato, al Carrefour ho trovato dei gelati che volevo troppo provare da un sacco di tempo, ovvero il Maxi Bone Cookie, quindi non quello classico, ma la versione cookie, super super buono. Questi gelati dell'algida, groovy, che veramente, raga, cioè non avete idea di quanto mi ispiravano, però devo dire che questo, che è l'unico che ho assaggiato finora, mi ha un po' deluso, cioè, più che altro non mi ero accorta che era il gusto caffè-cappuccino, eccetera, pensavo fosse tipo vaniglia e cioccolato, non ho letto, errore mio, e quindi forse per i miei gusti non era proprio la cosa ottimale, però voglio provare quello al pistacchio, perché quello, secondo me, raga, mi farà veramente volare, però comunque, dai, non male, tra l'altro ho detto algida e invece san montana, vabbè, insomma, quello che è. Infine, ma non per importanza, raga, i gelati dell'estate, io sono rimasta sconvolta, purtroppo avevo trovato solo quelli al limone e non quelli alla pesca, ho detto, vabbè, dai, li provo lo stesso, ma a me, raga, l'estate al limone proprio non piace, quindi è stato un po' un rischio, quando l'ho assaggiato, cioè, ho visto le porte del paradiso spalancarsi davanti a me, è la cosa più buona del mondo e ho pensato, se questo al limone, che generalmente non mi piace, mi è piaciuto così tanto la versione gelato, cioè, chissà, quello alla pesca, raga, io devo assolutamente trovarlo. Fatemi sapere se li avete già provati e cosa ne pensate, a me è piaciuto veramente un botto, raga, un botto. E questo è tutto per quanto riguarda il surgelamento, quindi metto tutto in freezer e arrivo. Rieccomi, passiamo ora al reparto frutta e verdura. Ho preso delle carote, dei limoni, che non so bene cosa lì sia successo, sono tipo giga, raga, sono grossi come la mia faccia, però comunque, dei limoni, del radicchio, dei pomodori cuore di bue, che è una vita che non li mangio, dei finocchi, questa insalata che, dannazione, non mi ricordo come si chiama, raga, non è lattuga, non è insalata romana, ha un altro nome, ma non mi viene in mente, comunque, vabbè, questa. Dei fiori di zucca, cioè, i fiori di zucca, che sono tipo la cosa, ok, cioè, questi, questi, signori miei, non ho resistito, li volevo. Dei mirtilli, che nel frattempo sono quasi diventati una marmellata. La mia cosa preferita dell'estate, l'anguria mini, perché me la mangio solo io, e una di quelle grosse, insomma, sarebbe stata un po' too much. E fine, quindi ora passiamo alle cose da frigorifero. Allora, vi faccio vedere prima quello che ho preso al Carrefour, che sono giusto tre cose. Gli straccetti di soia, questi qua, raga, sono veramente troppo buoni ogni volta che mi capita di passare dal Carrefour, ne approfitto per prenderli, perché veramente, vi giuro, sono stra stra buoni, provateli se non l'avete mai fatto. Poi ho preso questi yogurt di soia alla pesca, della marca del Carrefour, a cui voglio dare una grande fiducia. Spero siano buoni, quelli che avevo preso l'altra volta al Lidl della soia, erano, cioè, divini, divini, quindi ho delle aspettative molto alte anche su questi, vi saprò dire. Poi ho preso questi Vustel vegetali di tofu e farro, convinta che fossero nuovi, che non li avessi mai provati, invece ho scoperto, grazie a voi che me l'avete detto su Instagram, che sono gli stessi che avevo già preso in passato, hanno semplicemente cambiato il packaging. Però va bene così, perché mi erano piaciuti quelli che avevo preso, quindi top. Stando sempre in tema di Vustel vegetali, al Lidl invece ho preso questi. Questi erano della settimana grigliata, una cosa del genere, sono contenta di averli trovati anche se quella settimana era già passata. E sono questi in stile viennese, sono marroncini, questi invece sono stile tedesco e sono più bianchi. Chi lo sa raga, anche questi se li avete già provati, fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Poi ho preso queste polpettine, sempre da Lidl, che non ricordo se le ho mai provate in vita mia, onestamente proprio non mi ricordo. Però mi ispiravano, ho voluto provarle, vi sapro dire, vi sapro dire. Poi ho preso il mio amato Seitan, che sono così contenta che Lidl l'abbia messo come prodotto fisso, perché veramente c'è. Oltre a essere buono, è veramente economico, quindi ci sta. Per il rapporto qualità-prezzo, secondo me è perfetto, ci sono Seitan più buoni, assolutamente sì, però costano anche il triplo, quindi facciamo che va bene così. Ultima cosa per quanto riguarda il frigorifero, se non sbaglio, direi di sì, la mozzarella per la pizza. Immancabile anche questa. Metto via anche queste cose un secondo e arrivo. Bene ragazzi, ora arriviamo al momento bello di questa spesa. Il motivo per cui vi ho detto, questa è la mia dichiarazione d'amore a Lidl. Perché dopo questo veramente, cioè, non so come altro fare per dire che Lidl io ti amo. Allora vi faccio vedere cosa ho preso. Siete pronti? Sì. Ebbene sì, l'infradito di Lidl. Cioè mie, per forza, mie, ho urlato quando le ho viste. Tra l'altro ho preso un 38-39, perché io in realtà ho un 37, ma la taglia più piccola era 36-37, e oppure mi andasse troppo piccola. Non le ho ancora provate, a dire il vero, ho voluto fare prima il video. Ma non importa, anche se vanno un po' grandi, le utilizzerò lo stesso. Poi, non sono infradito, perché ho preso anche... Oh sì, oh sì, due paia di calzini raga! Due paia di calzini, io questi li puntavo già dall'anno scorso, non li avevo trovati alla nazione. E finalmente li ho, finalmente sono miei, non potevo vivere senza calzini del Lidl. Cioè raga, guarda quanto sono belli! Mai visto niente di più spettacolare. Ma non è finita qui, perché ho preso anche i pantaloncini, che sono tipo enormi, perché sono rimaste solo taglie giga. E sono anche lunghissimi, però secondo me se li taglio, la lunghezza la risolviamo. E poi vabbè dai, c'è il nastrino qua per stringerli, quindi possono essere utilizzati tranquillamente. Cioè, potevo, potevo lasciarli lì, probabilmente sì, ma non importa. Guardate che belli, con tutti i bollini Lidl, 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 no, cioè miei sponsor viventi di Lidl. E infine, l'ultima che c'era raga, proprio è stata trovata così per miracolo in mezzo ai pantaloncini. Che l'ho presa subito, doveva essere mia. La maglietta, con la stessa fantasia dei pantaloncini. Abbiamo la maglietta, è tipo enorme, potrei farci un vestitino, sarebbe anche strafigo. E anche questa ha la fantasia appunto dei pantaloncini con tutti i bollini Lidl, 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 Lidl. Io veramente spicco il volo. E bello che la seconda maglietta che ho di Lidl, cioè ormai il mio armadio è proprio sponsored by Lidl. Non è vero, perché non mi pagano, dannazione, però bellissimo. Vi dirò, c'erano anche le scarpe, però onestamente, cioè non mi fanno impazzire. Quindi non le ho prese, cioè prendo solo cose che poi effettivamente utilizzo. Però nel Lidl dove vado io ce n'erano veramente tantissime. Quindi non so se quest'anno non c'è stato quel momento di assagliamo i Lidl, prendiamo tutte le scarpe che ci sono. Oppure è stato un caso speciale il mio Lidl, perché ne va veramente tantissime. Vabbè, comunque torniamo ai prodotti alimentari, che dite? E vi faccio vedere le ultime cose che ho preso, che poi vabbè non sono tutte prodotti alimentari, ma non importa. Allora, ho preso una cosa di cui spero di non pentirmi, ovvero la pasta di piselli. Ho deciso di prendere questa pasta perché durante l'ultima sfida delle 24 ore avevo provato una pasta di lenticchie rosse che stranamente mi era piaciuta. Quindi ho voluto provare a dare una nuova possibilità a questa pasta di piselli. E vediamo come va, io spero di non aver fatto una cavolata. Speriamo sia buona. Poi, per rimediare nel caso quella pasta non mi piacesse, ho preso il mio chilo di spaghetti classico, così almeno mi posso consolare. E un chilo direi che può bastare. Poi ho preso dei succhini, questi sono al gusto mela e banana, sono stra buoni raga, veramente stra buoni. Della farina normale, perché vi ricordate quando avevo preso quella apposta per pizza, ecco non mi è piaciuta per niente. Ho notato che preferisco come esce la pizza utilizzando questa farina. E poi anche la cottura è diversa, richiede più tempo l'altra e non ci siamo, non ci siamo. Quindi farina normalissima va bene così. Poi ho preso un bel pacco di fette biscottate, che da una vita che non le mangio mi piacciono tantissimo. Quindi fette biscottate normalissime. Lo struccante raga, questo struccante qua di Lid della Sien è tipo totale, mi piace tantissimo. Vi ricordo che tra l'altro Sien è cruelty free, quindi top. È un po' piccolino, quindi lo finisco sempre subito, ma veramente super super ottimo, io ve lo consiglio. Poi ho preso due candele alla citronella. Penso che non ci sia neanche bisogno di spiegare il motivo. Se vedeste le mie gambe in che condizioni sono, raga, veramente vi spaventate. Solitamente io non sono una preda favorita dalle zanzare, ma quest'anno, ecco, gli piaccio più del solito, devo ammettere questa cosa. Ho le gambe martorriate, quindi citronella is the way. E infine, raga, gli ultimi due prodotti, mi vengono a ridere che sono rimasti per ultimi proprio questi due. Vi giuro che non sono un'alcolizzata, però ho preso tre corone. Raga, ve l'ho già detto, mi piacciono un sacco in estate. Ci sta veramente da Dio la corona bella fresca con il limone online e mi piace. Mi piace quindi le ho riprese, però solo tre, non sei. Perché poi ho preso questa cosa che, vi giuro, sono anni che io la vedo, ogni anno dico, adesso la prendo, adesso la prendo e poi non lo faccio mai. Quest'anno ho detto sì, quest'anno io voglio questa cosa, ovvero, oddio quanto pesa, il bicchiere di litra con dentro un litro di birra. Cioè proprio una lattina da un litro. Aspettate che la apro perché voglio farvela vedere bene. Stiamo parlando di questa cosa. Allora, io in realtà la volevo solo per il bicchiere perché è troppo, il bicchiere della litra è troppo bello e quindi lo volevo, finalmente mio. E questa birra, secondo me, farà schifo. Cioè, oddio, non voglio giudicarla senza averla mai provata. Magari in realtà mi stupirà destra buona. Però non credo sia proprio, ecco, il top del top. Soprattutto questi lattinoni da un litro, cose del genere. Di solito, diciamo che lasciano un po' a desiderare. Però se volevo il bicchiere dovevo prendermi anche la birra, quindi eccola qua. Motivo per cui ho preso anche le corone, così almeno. Se questa fa proprio schifo, perlomeno ho la corona. Non che la corona sia la queen delle birre perché è tipo acqua gasata. Però vabbè, dai, ci siamo capiti. Ed è tutto, signori. È tutto. Questa è stata la mia spesa. Sono contenta di aver trovato i prodotti a marchio Lidl. Perché solitamente scompagnano subito il primo giorno. Invece sono riuscita a trovarli. Fatemi sapere se anche voi avete comprato qualcosa a marchio Lidl. Tipo infradito, scarpe, borse, qualsiasi cosa. Insomma, sono troppo curiosa. E giunti a questo punto del video, scegliamo un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti. L'hashtag della fine potrebbe essere... Ce l'ho raga, facciamo hashtag Lidl amore mio. Sì, dichiariamo tutti insieme il mio amore a Lidl. Facciamolo con questo hashtag. Quindi hashtag Lidl amore mio. Scrivetelo qui sotto nei commenti. Io a questo punto vi ricordo che in descrizione vi lascio il link per potermi seguire su Instagram. Il link per potermi seguire su TikTok. Il link per potermi seguire su Twitch. E il link della mia Amazon wishlist. Io raga vi ringrazio tantissimo, come sempre, per essere rimasti con me anche in questo video. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!